La pepidona La pepidona, un ape molto pigra, non vuole lavorare, ma preferisce giocare e volare con le farfalle. Le altre pepidona lavorano tutto il giorno e producono tanto riele. Quando la pepidona ha tanta fame, vada la pepidona a chiederla a mangiare. Ho fame, cosa c'è di buono? Domanda. La pepidona risponde, per te proprio niente, chi non vuole lavorare non mangia. La morale sta nella Costituzione italiana. Articolo 1 L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.